Cosa c'è di più bello che giocare con la propria bambina? La piccola si diverte insieme al suo papà, ma non sa ancora che lui e la mamma stanno per farle un bello scherzo. La barba lunga del ragazzo, infatti, sta per sparire. Come reagirà la bimba quando vedrà il padre col nuovo look? E tu chi sei? Non ti conosco. Ridammi il mio papà, sembra dire la piccola, perplessa di fronte al padre. Ma alla fine capisce cosa è successo e un bel bacino fa tornare tutto normale.